Roberto Maria Sassone, eccolo qua, è psicologo, psicoterapeuta, organoterapeuta, analista reichiano, terapeuta EMDR. Cosa vuol dire EMDR, Roberto? Ma è una pratica attraverso la quale si usano dei rapidi movimenti oculari per rivivere dei traumi passati, l'ho detto molto sinteticamente. Didatta, trainer, docente di varie scuole come la scuola europea di organoterapia. Mi dici cos'è l'organoterapia? Allora, sono un analista della scuola di Willem Reich. Reich era un allievo di Freud ed è quello che ha portato il corpo nella psicoterapia. e il suo grande allievo è stato Alexander Lowell, che ha creato la bioenergetica. Reich chiamava orgone, ovvero energia organica da organismo, l'energia vitale del corpo. Io ho letto un libro di William Reich, mi sembrava Rivoluzione, non mi ricordo più, molto bello, mi piaceva. Rivoluzione sessuale. Ah, la rivoluzione. Ecco, ero stato attratto dal titolo, erano a fine degli anni Sessanta, quindi sai, tutte queste cose di rivoluzioni erano per noi qualcosa di molto importante. Continuo. Accademia olistica di Bagni di Lucca, scuola di analisi reichiana di cui è fondatore. E' istruttore di Mindfulness. Cos'è? Mindfulness psicosomatica. Ma quante robe fai? Che cos'è questa cosa qui? Mindfulness. La mindfulness è quella pratica di meditazione che ha creato John Kabat-Zinn, che nasce fondamentalmente dalla Vipassana, Theravada, quindi dal buddismo Theravada, e anche dallo Zen, e che è la pratica per collegarsi intimamente a se stessi, soprattutto prendendo il respiro come punto di riferimento, come ancoraggio. Io potrei parlare con te per ore, perché ogni parola ti fermerei, perché tu hai detto il buddismo Theravada. Theravada. E cos'è Theravada? È bellissimo. Il buddismo Theravada è il buddismo originario. Quando il Buddha ebbe l'illuminazione, poi cominciò ad insegnare ai suoi amici che lo seguivano, i suoi discepoli più intimi, e quindi sono gli insegnamenti originari del Buddha. Ok. Poi dopo. Allora, conduci i laboratori, gruppi e workshop di psicoterapia corporea, di coscienza integrale del corpo, mindfulness, hai creato la self-mindfulness, e giornalista, pubblicista, direttore responsabile della rivista web psicoterapia analitica reichiana. Ma cosa fai? A questo punto mi giunge spontanea una domanda. Roberto, cosa fai nella vita? Perché tutta sta roba... Cosa fai nella vita, Roberto? Allora, con grande semplicità, faccio lo psicologo e psicoterapeuta, e quindi rientro nella categoria normale degli psicologi e degli psicoterapeuti, soltanto che la scuola di appartenenza, essendo una scuola di psicoterapia corporea, inserisce tutta l'espressione corporea nella psicoterapia stessa, ovvero tutta la nostra storia è impressa nel nostro corpo, ovviamente. E quindi noi possiamo accedere alle memorie corporee per rivivere anche i traumi del passato, in maniera tale da poterli non soltanto conoscere mentalmente, ma poterli proprio emotivamente affrontare e quindi sciogliere con maggiore facilità. Ma quindi, scusa, le esperienze passate non rimangono nella nostra memoria? Tu dici rimangono anche nel nostro corpo? Ah, vedo che stai toccando un tema che però, diciamo, fa parte di ciò che amo al di là di quello che la psicologia riconosce. Sono convinto che le nostre esperienze passate si imprimono innanzitutto nell'involucro animico, proprio nella nostra anima. E quindi poi, quando in una successiva incarnazione, l'anima prende forma attraverso il nostro corpo, che diventa proprio la sua possibilità di manifestarsi nella vita, può portare anche nel nostro corpo delle memorie del passato. Allora, mi segnala una cosa che io non sapevo, che riguarda la musica. Il video di Kate Bush con Donald Sutherland descriveva uno degli esperimenti di Reich, di William Reich. Tu ne sai qualcosa? Sì, sì, sì. Beh, William Reich è stato un genio incredibile, bistrattatissimo, soprattutto perché, diciamo, parlando dell'importanza della sessualità come funzione naturale dell'essere umano, che conduce realmente ad una relazione d'amore, ed unione di contatto, e quindi era vituperato da tutti coloro che erano detrattori del suo pensiero. E lui, studiando anche tutta l'energia vitale, creò anche delle apparecchiature, i cloudbusters, che addensavano praticamente questa energia per aiutare a piovere, creando delle nuvole laddove c'era siccità. Sono degli esperimenti anche molto documentati, ma entriamo in un campo che, diciamo, non è quello che mi riguarda proprio fondamentalmente. Certo, un po' come faceva Ighina, che faceva piovere... Esatto, Ighina, infatti, era un grande conoscitore e destinatore di William Reich. Quello che a me preme, invece, fondamentalmente, è riuscire ad unire tutta quella che è la ricerca spirituale, quella autentica ricerca spirituale, ovvero quel percorso che ti permette di poterti connettere con la tua anima, collegandola all'aspetto psicologico di un individuo, che, secondo me, è un po' molto carente nella psicologia attuale, perché o si parla di spiritualità separata da tutto quello che rappresenta la nostra personalità e quindi anche tutte le nostre strutture conflittuali, o si parla di psicologia escludendo completamente l'aspetto interiore che, a mio avviso, invece, è la base che anima un essere umano. Il problema, per farla proprio semplice, semplice, è che, invece, proprio chi si decide di immettersi in una via spirituale, soprattutto non deve trascurare tutti quei condizionamenti della mente e delle emozioni che distorcono completamente la percezione di sé e che, quindi, non consentono di accedere in maniera molto più serena e diretta a questa dimensione profonda che c'è nel nostro cuore che è la dimensione dell'essere, la dimensione della nostra anima individuale. Senti, Roberto, tu mi stai dicendo una roba che io fatico a comprendere, cioè io ho sempre pensato che l'anima fosse legata molto di più al cuore, all'istinto e che fuggisse dalla mente e dalla ragione. Invece tu mi parli di recuperare l'anima attraverso la psicoanalisi. Cioè, è stranissima questa cosa. Allora, se mi ascolti un po', forse riesco a dire una cosa che in realtà poi è molto più semplice di quello che non si possa immaginare. Se noi guardiamo fondamentalmente tutte le discipline iniziatiche, esoteriche, delle grandi tradizioni sapienziali, lo strumento d'accesso per poter entrare in queste vie è molto collegato al corpo. Nello yoga, ma anche nel buddismo, per esempio, la pratica di meditazione si basa soprattutto sulla respirazione. E se c'è una cosa pienamente corporea, intimamente corporea, è il respiro. Perché la percezione del respiro che cosa fa? Ci porta a ricordarci di noi stessi. Cioè, ci fa uscire dalla mente che ci pensa continuamente e ci fa entrare nella percezione del corpo. Se io divento consapevole in questo istante del mio respiro, mi sento esistere qui. Perché? Perché il corpo, proprio per il suo modo di funzionare, funziona nel presente. Se mi sento adesso, mi sento adesso, il corpo non funziona nel passato o nel futuro come la mente che ricorda, no? Oppure sogna le cose che vorrebbe fare. Il corpo ti porta nel presente. Allora, guarda, a proposito di quello che stai dicendo, Serena Giovanni ti chiede, le memorie le porta nel corpo astrale? Cioè, le tue memorie te le porti nel corpo astrale? Ripeto, stiamo affrontando un argomento che in realtà io amo, ma che non fa parte proprio della psicologia. La mia risposta è sì, per quello che, diciamo, posso dire nel mio piccolo. Anzi, è proprio il corpo astrale, diciamo, il veicolo fondamentale che unisce la nostra anima al nostro corpo fisico attraverso il corpo vitale. Quindi sì, la risposta è sì. Claudio Rampazzi mi chiedi a Roberto della via del guerriero. Ah, il guerriero. Beh, amo molto questo archetipo. In realtà ho scritto un libricino, il guerriero interiore, proprio perché è un archetipo molto importante, secondo me. La figura del guerriero è una figura archetipica che in tutte le tradizioni viene, diciamo, riconosciuta, ma soprattutto fa parte della tradizione dei Veda nella Bhagavad Gita, che è un libro sacro, in cui c'è questo guerriero che è Arjuna, che si trova in un grande conflitto, e qui entriamo nel tema del conflitto che è anche il grande tema del nostro momento storico. Si trova in un grande conflitto perché la sua natura è quella di combattere, proprio il suo dharma, essendo un guerriero, soltanto che si trova a dover combattere dall'altro lato, i nemici sono anche dei fratelli, c'è anche il suo maestro, ci sono dei parenti. Quindi il suo grande conflitto è come guerriero dovrei combattere, ma in realtà non vorrei combattere anche persone che sono care. E quindi entra in questo grande conflitto. È una metafora questo grande conflitto perché è la metafora del dover cominciare a lottare con tutte le nostre ombre, cioè con tutte le parti oscure della nostra personalità che sono quelle proprio che impediscono il collegamento profondo con la nostra essenza interiore. Quindi, ecco perché tutto il lavoro di psicoterapia, anche corporea, sciogliendo i nodi dei nostri conflitti, consente di poter togliere i veli della mente, i veli delle emozioni per poter far emergere quella che è la nostra natura autentica, ovvero una natura spirituale che diventa il fulcro della nostra vita, ovvero se noi cominciamo a connetterci anche attraverso il corpo, quindi attraverso il respiro, ad uno spazio profondo del nostro cuore, possiamo cominciare a sentire che noi siamo molto di più di quello che la nostra mente ci dice, perché la mente ha una grande caratteristica ed è quella della divisione del conflitto. La nostra mente razionale funziona per bianco o nero, buoni e cattivi, e quindi ci porta sempre a vedere la realtà come conflitto, mentre invece se noi entriamo nell'intelligenza del cuore che ha uno sguardo di unità, che coglie l'unità e l'armonia delle situazioni, possiamo entrare in una percezione della vita, che è una percezione veramente, usando il termine che molto si sta usando in questa trasmissione, è una percezione artistica, perché l'arte inizia proprio quando tace la mente e quando parla è il cuore, direi. Ma, scusa Roberto, tu stai dicendo che per entrare nella spiritualità dobbiamo distaccarci dalle emozioni? Assolutamente no. Questa è la cattiva interpretazione di un certo tipo diciamo di olismo, al contrario, il problema non sono le emozioni, il problema sono le emozioni distorte, le emozioni oscure, cioè tutta quella vita emotiva in cui noi siamo pieni di rancore, di invidia, di rabbia, di gelosia, cioè tutte quelle emozioni che abbiamo represso e che quindi condizionano il nostro rapporto con gli altri. Quindi il lavoro sulle emozioni dovrebbe essere prima un lavoro di ritrovare emozioni autentiche, sciogliere i nodi conflittuali, quindi tutte le emozioni oscure che ci catturano e che non riusciamo a gestire e quindi recuperare una dimensione emotiva armoniosa che diventa invece al contrario la possibilità di portare la nostra coscienza nella vita con tutta la colorazione meravigliosa delle nostre emozioni che rendono la vita proprio un intero arcobaleno con tutte le sfumature possibili ed immaginabili. Quindi il problema è che le nostre emozioni sono condizionate in questo periodo storico sono emozioni di paura emozioni di insicurezza emozioni di rancore quindi tutto questo ci impedisce di vedere che ci può essere invece una realtà dietro tutto questo molto più ricca e armoniosa e se non usciamo da questo tipo di identificazioni con queste emozioni negative non possiamo recuperare il nostro patrimonio emozionale luminoso che ci permette appunto di rendere la vita ricca di sfumature Roberto sì sì Roberto ti volevo fare una domanda che riguarda il periodo che stiamo vivendo questo periodo anche a livello psicologico noi ci rendiamo conto che improvvisamente abbiamo perso tanti amici c'è tanti amici non li riconosciamo più e contemporaneamente sono arrivate nuove persone che ci sembra di conosce da una vita ma è la prima volta che li incontriamo non c'è mai stato perlomeno a mia memoria ma credo anche a memoria dell'uomo un periodo come questo cosa sta succedendo voglio dare una risposta veramente nei limiti delle mie possibilità una risposta parlando col cuore faccio una premessa nella mia ricerca interiore l'essere il maestro di grande riferimento un essere meraviglioso che è vissuto il secolo scorso è Shri Aurobindo Shri Aurobindo per me è stato veramente ed è una fonte di ispirazione e di conoscenza e Shri Aurobindo diceva molto chiaramente collegandosi anche ad altre tradizioni sapienziali che siamo giunti ad un periodo di svolta in cui la nostra civiltà o riesce a trasmutare in una dimensione diversa ovvero riesce a sviluppare un contatto più autentico e più profondo con la nostra anima e con una coscienza che non sia esclusivamente la coscienza mentale divisoria oppure c'è il rischio veramente che possa in qualche modo non procedere quindi siamo di fronte al mio avviso ad un collasso della cultura e della civiltà ha raggiunto un livello in cui non può continuare così perché essendo basata esclusivamente su valori orrendi di consumo di potere di lotta in cui il valore massimo è quello di appropriarsi delle cose e quindi di non nutrirsi di valori di semplicità e di bellezza e di spontaneità praticamente non fa che depredare tutto quello che c'è intorno allora questo è un momento a mio avviso incredibile e meraviglioso che dà opportunità a chi riesce in qualche modo a leggere gli eventi così come stanno accadendo di fare un salto quantico da un punto di vista della sua coscienza cioè rendersi conto che viviamo in una grande menzogna e questa grande menzogna credevamo che fosse la vita vera mentre invece la vita vera è quella di ritrovare la connessione con la nostra anima e in questa connessione e quindi con questo nuovo sguardo che è lo sguardo del cuore cogliere che ci sono valori essenziali che abbiamo perduto che sono valori di solidarietà che sono valori di proprio di amore inteso proprio come quello stato che ti permette di vedere che l'altro è uguale a te che non c'è un nemico che veramente ogni persona è una grande espressione di possibilità di cui magari è inconsapevole e quindi di ritrovare una ricchezza che veramente si è perduta noi potremmo vivere con una semplicità estrema di poche cose infatti la via spirituale è quella dello svelare cioè di togliere i veli di togliere tutte le cose inutili che ci hanno fatto credere che fossero indispensabili per vivere mentre invece per vivere è necessario veramente recuperare la semplicità che permette di godere delle piccole cose che sono cose meravigliose il contatto con la natura il contatto con l'arte il contatto con la poesia il contatto con le persone cercando di vederle non attraverso lo sguardo della mente ma cercando di vederle attraverso lo sguardo del cuore in cui ci si accorge che magari anche dietro una persona che ci può sembrare diciamo antipatica che ci può sembrare ostile c'è una persona che sta soffrendo c'è una persona che immemore c'è un'anima che in qualche modo sta lottando nel suo modo per cercare di emergere quindi la solidarietà dovrebbe essere veramente il modo semplice nuovo e spontaneo di vivere la vita insieme ad altre persone ma questo non lo si può fare se prima non si comincia ad avere una esperienza semplice torno a dire di connessione con la propria anima sono convinto che la spiritualità è come una scienza della coscienza ovvero la spiritualità non è qualcosa per pochi eletti la spiritualità è una via che se si si percorre con estrema semplicità può essere realizzata da chiunque si ha una grande aspirazione riconnettendosi alle cose più semplici di se stessi e poi ci sono proprio delle pratiche come la pratica della meditazione che in tutte le tradizioni è una pratica che è stata sempre portata avanti come fondamentale perché la pratica della meditazione è proprio quello stratagemma quello strumento quell'escamotage che consente attraverso una serie di piccole regole da conoscere che consente di bypassare la mente che interpreta tutto che chiude tutto che distorce tutto e separandosi dalla mente e collegandosi attraverso il respiro alla percezione dell'essere presenti si comincia a creare un silenzio il silenzio è l'inizio del viaggio spirituale per tutti perché quando comincia a crearsi un minimo di silenzio dentro ci si accorge che in questo spazio di silenzio che è lo spazio del cuore proprio qui emerge una nuova voce è una metafora ovviamente la voce dell'anima che è sempre presente in noi è una sensazione molto intima che si riconosce perché da cosa si riconosce perché in quel silenzio comincia a nascere una commozione di sé una gratitudine per la vita un senso di aspirazione direi proprio un anelito al divino che è naturale non è qualcosa di mistico è qualcosa che dovrebbe appartenere a qualsiasi essere umano se riesce però a far tacere questo grande caos della mente che interpreta tutto vuole proprio mettere direi le mani sulle cose e quindi impedisce di poter avere una relazione completa immediata con noi stessi e con gli altri la differenza è questa se io la maggior parte di persone per esempio quando quando iniziano a lavorare con il corpo no? loro dicono ma cosa devo fare devo pensare il mio corpo perché siamo talmente mentali che la nostra idea è che per sentire una mano la devo pensare invece non dobbiamo pensare il corpo ma dobbiamo imparare a sentirlo è un primo passo fondamentale se sento il corpo finalmente non ci metto un reticolo mentale ho la percezione chiara di quello che sta accadendo in questo momento e nel momento in cui comincio ad avere una percezione chiara anche del mio respiro e attraverso il mio respiro entro nel silenzio del cuore e questo se uno lo fa attraverso la pratica meditativa come anche ce l'ha fatto vedere Michele si può fare tutti lo possono fare ecco che questa è la strada per iniziare a sentire che noi siamo un nucleo denso di bellezza ed è molto molto più concreto di quello che si possa immaginare guarda concludiamo con un commento di Antonello Brunetti che è un musicista ma anche fa meditazione che vive a Londra e dice bisogna capire che un evento in sé è neutro è la nostra interpretazione che con pensieri ed emozioni rende l'evento qualcosa di bello o di traumatico in base alle nostre ferite e al nostro percorso perfetto ha espresso in pochissime parole quello che sto cercando di dire ma io ti ringrazio è stato bellissimo parlare con Roberto Maria Sassone ed è dove abiti Roberto? vivo a Milano ah è bello perché hai detto vivo a Milano con una faccia come per dire vivo in una banale Milano allora altra cosa che ti volevo chiedere per entrare in contatto con te tu cosa fai? seminari cosa fai tu? beh sì il mio lavoro è quello appunto individuale e faccio seminari di meditazione no? e seminari quindi di conoscenza di sé attraverso appunto la psicoterapia corporea e per contattarti? c'è un sito www.robertosassone.com semplicissimo dove dove ci sono materiali interessanti ok io ringrazio Roberto Sassone che è stato con noi oggi in questo maratona di coscienza che vi invito poi a riguardare a piccole dosi anzi noi poi in futuro spacchetteremo tutti gli interventi perché è veramente un'ubriacatura di cose meravigliose mi ricordo quando io andavo ai festival pop dove c'erano musica che iniziava alle tre del pomeriggio finiva a mezzanotte e alla fine eri talmente eri talmente pieno che avevi voglia di vederne ognuno singolarmente quindi vi consiglio un giorno di prenderne uno ognuno singolarmente questo è il sito eccolo qua www.robertosassone.com tutta la vita meditare con te caro Roberto ti abbraccio questo è Fernanda Frassi ok grazie ciao Roberto ciao ciao ciao